Grazie Presidente. Innanzitutto sottolineo come le direttive europee in materia di qualità dell'aria siano condivisibili e valide. Purtroppo però la Lombardia fatica a rispettare tali direttive a causa dei costanti superamenti delle soglie massime di concentrazione degli inquinanti dell'aria, in particolare PM10, PM25 ed NO2. Inquinamento dell'aria che, ricordo, è stato recentemente certificato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come sicuramente cancerogeno. La difficoltà di Regione Lombardia a rispettare le soglie massime di inquinanti è in parte dovuta alle particolari condizioni meteoclimatiche e morfologiche dell'intero bacino padano. Benvengano quindi politiche condivise su scala transregionale. Tali caratteristiche morfologiche e meteoclimatiche non possono però in alcun modo rappresentare un alibi per non attuare incisive e innovative politiche di contenimento degli inquinanti dell'aria. Dobbiamo combattere e disincentivare la combustione, investire in decise politiche di risparmio energetico e di riqualificazione delle aree industriali fortemente inquinate, come già in alcune zone d'Europa sta accadendo da anni e con successo. Per combattere la combustione dobbiamo con coraggio ammettere che ad esempio la logica degli inceneritori è superata, che per contenere il traffico veicolare è necessario investire in mobilità alternativa e non in nuove autostrade. E che nuovi impianti spacciati come green ed ecosostenibili in realtà non lo sono affatto dal punto di vista delle emissioni, come per esempio i grandi impianti a biogas, che in Lombardia negli ultimi anni sono sorti in notevole quantità e senza programmazione. Dobbiamo quindi fare di più ed essere anche più coraggiosi per invertire veramente la tendenza e per arrivare a rispettare le soglie imposte dall'Unione Europea, le soglie sugli inquinanti. rispettare ad esempio la concentrazione massima di PM2,5 di 20 microgrammi su metro cubo, che dovrà essere rispettata entro il 2015, obiettivo che al momento appare ancora molto lontano, con gravi conseguenze sulla nostra salute. Grazie.